come va e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità allora allora oggi facciamo un video un po particolare particolare perché cerchiamo di capire che cosa succede ai soldi del reddito di cittadinanza se non vengono consumati o non vengono spesi per intero quindi la domanda è che fine fanno questi benedetti soldi allora diciamo che per le persone che prendono rdc lo sappiamo non c'è vita facile un po lo mettono un po lo tolgono un po questo un po quello un po devi andare a lavorare un po non deve andare a lavorare un po se occupabile un po non sei occupabile un po c'hai 18 anni un po c'hai 60 anni sono un gran casino qui come dicevo in un altro video qui le cose cambiano in come cambia il vento non cambia la bandiera si cambia tutto no poi cambia governo cambiano le regole insomma al solito un gran casino in pratica un gran casino tra l'altro nel quale le tutte le persone famiglie che hanno diritto a ricevere rdc devono barca menarsi in questo rigodi di leggi leggine per riuscire a farselo pagare ma torniamo a noi per rispondere alla domanda iniziale che fine fanno i soldi di rdc dobbiamo andare sul sito internet del ministero del lavoro che poi vi lascio qui sotto nella scheda video poi magari anche in una di queste schede qua se mi ricordo di metterla se mi ricordo però nella scheda video vi lascio poi il collegamento così ve lo potete andare a leggere ma perché andarsela leggere quando in realtà ve lo dico io adesso e allora ci dicono così proprio così in via ordinaria ordinaria il beneficio deve essere utilizzato entro il mese successivo a quello di erogazione e fino lì niente di nuovo ma non è questo tanto l'interessante la cosa interessante la cosa interessante arriva adesso perché perché nel caso in cui il reddito di cittadinanza non viene speso oppure non viene prelevato sapete che potete anche prelevare in contanti a eccezione degli arretrati e qui sinceramente non so bene come facciano a capire che cos'è un arretrato o quale no perché se buttano tutto dentro la stessa carta boh vai a capire te come fanno a capire cosa sono gli arretrati e cosa no boh perché alla fine della raminata se c'è scritto saldo x euro boh come fanno a capirlo lo sanno solo loro però vabbè se ci riescono buon per loro quindi a eccezione degli arretrati come previsto dal decreto misteriale 2 marzo 2020 viene fatta una decurtazione cioè un taglio dei soldi e bene si vengono tagliati i soldi che sono ricaricati sulla carta di rdc e questo taglio viene fatto al 20 per cento del beneficio pagato adesso mi viene anche un dubbio non è che poi dopo quando ci sarà la segna di inclusione o quello che sarà perché poi bisogna vedere se sarà quello ne sarà un altro perché come ho detto qui cambiano dalla mattina a sera non è che poi quando ci sarà la segna di inclusione si inventeranno anche una sorta di taglia del genere del 20 per cento se tu non lo usi entro un tot di giorni e perché qua perché questa cosa qua è uscita dopo no cioè il rdc uscito nel 2019 questo uscito nel 2020 non è che poi si inventeranno un'altra questione tipo questa secondo me non lo so vediamo vabbè vediamo io non dico niente vediamo vediamo comunque torniamo a noi tutto questo viene fatto nel mese successivo a quello in cui il beneficio non è stato interamente speso ma non finisce qua perché vogliamo farci mancare qualcosa assolutamente no inoltre ogni sei mesi di pagamento viene fatta una verifica cioè quindi viene ancora decurtato dalla disponibilità della carta rdc l'ammontare complessivo non speso o non prelevato nel semestre fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto poi andiamo avanti andiamo avanti le decurtazioni che non possono superare il 20 per cento del beneficio erogato saranno effettuate solo dopo l'entrata in vigore di un apposito decreto ma siccome questo è un articolo vecchio a sto decreto penso che sia già ben che uscito ecco e poi va avanti perché dice come specificato nella legge istitutiva del reddito di cittadinanza l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato quindi ho speso o prelevato nel semestre nel semestre nei sei mesi praticamente verrà comunque decortato dalla disponibilità della carta fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto quindi fate attenzione fate attenzione adesso ci sarà poi da capire se sei mesi sette mesi fino a dicembre fino a settembre fino ad agosto chi l'ha preso nel 2 chi l'ha fatto domanda nel 2022 o chi ha fatto una domanda nel 2023 se dura sette mesi dura fino a dicembre io una mia idea ce l'ho ok siccome che io non ne metto leggi non ne metto decreti posso solo darvi dei consigli non posso dirvi in realtà funzionerà così ecco perché primo perché sul decreto lavoro è scritto veramente malissimo c'è questo decreto è scritto veramente malissimo fa una grande confusione che non si capisce niente quindi anch'io sto aspettando una legge definitiva che ormai dovrebbe uscire perché se questo è uscito il primo di maggio ci vanno 60 giorni quindi vuol dire maggio giugno luglio entro il primo di luglio deve uscire qualcosa per trasformarsi in legge deve passare 60 giorni tutto l'iter sapete quelli inter le no è quindi un bel momento entro il primo di giugno luglio luglio deve uscire qualcosa che ci spieghi un attimino meglio tutto quanto comunque se anche a voi è successo questo discorso del taglio del 20 per cento dei soldi di rdc fatemelo sapere qui sotto anche perché molte persone come dico sempre all'interno dei video si vedono degli importi strani più piccoli pagati quindi molte volte ci dimentichiamo che potrebbero essere anche questi tagli comunque fatemi sapere qui sotto nei commenti con questo è tutto io vi ringrazio per avermi guardato vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale youtube di attivare anche la campanellina che ci sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre solo sull'unico canale originale di youtube il mio quello che vi fa i conti in tasca a presto ciao